il prog è morto assi evviva il prog allora c'è questa ormai sempre più martellante esigenza da parte del metra pensé di turno di martellare con questa ossessione il prog è morto il prog è musica morta il prog era musica morta già quando veniva fatta questo è un mantra tipico di chi non capisce niente di musica allora cercherò di chiarire una volta per tutte la mia posizione nei confronti del prog e quando parlo di prog mi riferisco a quella musica inglese nata cresciuta e sviluppata in inghilterra fra l'inizio e la fine degli anni 70 e che ha trovato un'unica degna sponda e quindi una risposta creativamente interessante proprio in italia questo è il prog tutto il resto sono derivati del prog derivati anche molto interessanti perché questo filone quando è stato abbattuto dall'avvento dalla furia della non musica e della non cultura del punk e tutti i suoi derivati in realtà si è ritirato nelle catacombe ma è riuscito ad arrivare fino a noi infatti oggi esistono tanti giovani che affrontano questo genere con la maturità e il rispetto della conoscenza di ciò che è stato ma senza dubbio anche con idee nuove evolutive nella direzione nel solco unico della grande tradizione e modestamente io credo di essere uno di coloro che cerca di aiutare questi giovani vedi il nuovissimo disco dei martian noise questo gruppo composto da due fratelli di 17 19 anni al momento della realizzazione del disco che per l'appunto non dimentica sedimenta e sviluppa ma torniamo al grande prog al significato del grande prog oggi perché continuare ad ascoltare il grande prog oggi semplicemente perché è la migliore musica la vetta più alta raggiunta dalla musica in termini assoluti a partire dalla seconda metà del novecento e fino ai giorni nostri e questa è un'affermazione che io mi permetto e mi sento di dover fare assolutamente in termini assoluti non esiste la cosiddetta musica classica contemporanea non esiste nulla che possa reggere il passo delle meravigliose immaginifiche perfette architetture sonore e musicali create nell'ambito della musica pop allora io sono un musicista sono sicuramente un musicista sono un produttore musicale ascolto pratico e mastico musica da 55 anni credo di aver ascoltato centinaia di migliaia di differenti autori centinaia di migliaia ebbene oggi alla soglia dei 63 anni ovvero quell'età in cui in qualche modo si cominciano a tirare le somme a fare il punto a selezionare anche a indispettirsi e non essere più disposti al compromesso ebbene io quando devo ascoltare musica per il mio piacere per il mio benessere per la mia evoluzione culturale ascolto quasi esclusivamente una manciata di dischi e di gruppi del prog inglese e solo in parte italiano degli anni settanta io ascolto i genesis innanzitutto che del prog che già si pone i vertici della musica secondo me rappresentano il vertice assoluto e mi rendo conto che adesso mi farò anche qualche nemico nell'ambito degli appassionati del prog però qui scattano semplicemente le preferenze i gusti personali gli unus inter pares come direbbe qualcuno ebbene sempre più io mi sento vicino mi sento legato alle meravigliose rapsodie musicali create dai genesis i genesis come ben sapete per me fino a wind and wuthering ma qui entriamo già su uno specifico che ho affrontato varie volte ma ovviamente quando ho bisogno di stupirmi di restare colpito dalla immaginifico mistero della musica allora ascolto i king crimson della prima ora ascolto i van der graaf generator quando voglio capire come il prog sia anche un punto di unione col passato col passato più profondo e remoto ecco che ascolto i jet total quando invece voglio sentire tre solisti al top della loro possibilità espressiva e creativa allora ascolto emerson lake and palmer e poi non posso ovviamente dimenticare quell'amore che si alterna periodicamente con i genesis che sono gli yes gli yes della formazione storica con chris squire eric wakeman insomma una manciata di dischi forse 20 dischi che ruotano ciclicamente nel corso delle settimane in quei pochissimi momenti liberi che ho dal mio lavoro che guarda caso curiosamente si occupa di musica sono questi poi ovviamente ascolto anche la mia musica quella che io ho creato innanzitutto per me stesso e che per fortuna ha ritrovato un riscontro in qualche appassionato che sa apprezzare e quindi comprare e quindi mi dà di che vivere appunto della musica che io produco però questa non la voglio tirare in ballo in questo momento e comunque sia chiaro che all'interno di 373 titoli ad oggi prodotti ufficialmente a catalogo non è che io li riascolto tutti sono tutti i figli miei però inevitabilmente c'è qualche figlio prediletto e qualche figlio discolo che magari nel tempo mi ha creato qualche problema e quindi ascolto con meno interesse e questo fa parte dell'umanità di tutti noi ma allora cosa di così forte di così potente questa musica e perché oggi ad esempio esistono le cosiddette cover band di questi gruppi in realtà esistono cover band ormai un po di qualunque nome più o meno famoso anche assolutamente come dire contemporaneo e ancora operante nella realtà dei concerti dei live dei dischi ebbene queste secondo me non hanno praticamente nessun senso di esistere se non il giusto senso commerciale di dire ok diamo la possibilità a questi musicisti di guadagnarsi il pane però dal punto di vista artistico hanno molto senso le cosiddette cover band di gruppi storici importanti fondamentali che non esistono più e quindi di cui non è più possibile sentire un'esecuzione dal vivo ma perché interessante sentire un'esecuzione dal vivo mannaggia di questi storici dischi di questi storici brani semplicemente perché si tratta della musica classica del novecento ormai i grandi dischi dei genesis dei van dergraf dei king crimson di emerson lake and palmer sono storicizzati e cristallizzati esattamente né più né meno di come lo possono essere le nove sinfonie di betoven o tanti altri grandi classici della musica classica c'è solo una differenza che betoven non aveva a disposizione l'elettronica per documentare la propria visione la propria realizzazione musicale ma solo fra virgolette carta e penna per così dire in tempi moderni invece questi grandi autori questi grandi compositori hanno avuto a disposizione l'elettronica della registrazione per documentare per cristallizzare le loro composizioni io qualche sera fa sono andato ad ascoltare the watch che è una credo delle due più significative cover band dei genesis qui a valencia e ho potuto confermare al 200 per cento tutte le mie idee tutte le mie convinzioni a riguardo ebbene the watch ci hanno fatto una serata incredibile circa due ore di musica in cui nella prima parte del concerto è stato eseguito foxtrot dall'inizio alla fine e nella seconda parte sell in england by the pound e ovviamente sono stati eseguiti esattamente alla stregua di una grande partitura classica ovvero interpretando perfettamente le indicazioni musicali presenti non tanto nella partitura originale ma nel disco originale che a questo punto semplicemente sostituisce la partitura scritta ma non ne differisce nei concetti sottesi per così dire ebbene the watch hanno eseguito foxtrot e sell in england esattamente suonando le stesse note con i medesimi arrangiamenti esattamente come succede per i berliner philharmoniker che eseguono la nonna sinfonia di beethoven ma ovviamente interpretando questa musica ed è qui che si conferma che si sottolinea il concetto di interpretazione musicale di una musica diventata un classico e allora io vi devo dire alcune cose che magari vi sorprenderanno perché ad esempio il tastierista di the watch che esegue esattamente le partiture scritte pensate e suonate a suo tempo da tony banks secondo me suona meglio di tony banks a un tocco più elegante riesce a dare delle nuance interpretative ad una parte ripeto rispettata alla lettera ma per l'appunto interpretata ed ecco quindi ripeto ancora una volta la dimostrazione pratica tangibile concreta di quanto questa musica si possa e si debba considerare come la musica classica del secondo novecento e dal mio punto di vista dal mio punto di vista la vetta più alta della musica classica del novecento ieri dopo il concerto di the watch ho deciso di andare a riascoltare alcune cose dei genesis e sono andato a prendere ad esempio i miei vinili originali un proprio un tuffo nella nostalgia in particolare un disco che io reputo come sapete quasi al top della loro produzione che è trick of the tale e trick of the tale di cui io dispongo di svariate versioni fino a quella di riferimento proposta nel 2007 nel famosissimo super audio cd quindi remix e remastering sia stereo che multicanale i vertici assoluti e di cui confermo assolutamente la bontà della versione però 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 riascoltando il mio vecchio vinile che attenzione non è neppure una stampa originale inglese bensì una stampa originale italiana phonogram del 1975 inevitabilmente confusa nei rumori di fondo di un vinile letteralmente distrutto da una quantità smodata di ascolti e purtroppo all'epoca neppure con braccia e testine veramente adeguati dicevo nonostante questo la freschezza del master analogico originale che solo in quelle copie noi potremmo sentire esattamente come era stato concepito offre un afflato una profondità una comunicativa che il pur meraviglioso super audio cd di oggi riesce solo in parte a comunicare ma questo è già un discorso molto audiofilo per così dire resta la musica resta il fatto che ogni volta che io ascolto questi dischi scopro qualcosa di nuovo probabilmente perché la mia predisposizione mentale sentimentale è differente a seconda dei momenti in cui ascolto questa musica ad esempio nell'ascolto di ieri un brano che forse io non ho mai posto al vertice assoluto di questa produzione del disco e trick of the tale appunto che è madman moon è uscito in tutto il suo splendore in tutto il suo senso rhapsodico io continuo a ribattere questo concetto di rhapsodia perché è la forma espressiva che le suite le grandi suite e anche le mini suite ogni brano scritto dai genesis assume e questi brani assumono hanno questa forma non casualmente perché io credo che sia una forma voluta una forma espressiva scelta consapevolmente dagli autori che fra l'altro ripeto ricordo all'epoca in cui scrissero i loro capolavori avevano fra i 22 e 24 anni cioè se io vado a pensare all'oggi ai 22 e 24 anni di oggi un po soffro un po ne soffro assolutamente perché non riesco a vedere assolutamente una luce perlomeno in quello che viene mediaticamente diffuso e qui arriviamo a questa coda del video di oggi che riprende il tema proposto venerdì scorso nella lunga chiacchierata con l'amico Enrico Santa Caterina ovvero sul confronto fra la musica di oggi e la musica di ieri e l'altro ieri ebbene dopo quel video ovviamente sono stato aggredito fra virgolette naturalmente sia da tantissimi appassionati che si ritrovavano nelle nostre considerazioni ma anche da una eletta schiera dei soliti metra pensè che invece tenevano a mettere i puntini sulle i è ma non è vero è ma oggi c'è tantissima musica buona interessante allora cerchiamo di capirci una volta per tutti se oggi non esistesse musica valida io non farei questo mestiere è ovvio che oggi esiste tantissima musica interessante tantissima musica che ha imparato la lezione del passato e cerca e spesso ottiene uno sviluppo un percorso verso il futuro ne esiste tantissima purtroppo di tutta questa tantissima musica interessante non esce all'attenzione popolare nulla non dico quasi nulla dico proprio nulla oggi c'è una spaccatura netta definitiva inesorabile implacabile fra ciò che riesce a conquistare una visibilità popolare sia essa attraverso il web piuttosto che le vecchie vetuste reti televisive piuttosto che la stampa che ormai è diventata passacarte del potere anche in ambito culturale dicevo questa musica realmente interessante non supera quella barriera questa musica realmente interessante la si può trovare nei piccoli locali di provincia la si può trovare in piccoli teatri di piccole manifestazioni organizzate da lungimiranti organizzatori produttori pensatori attorno alla musica esiste questa musica ne esiste tantissima ma non viene dato spazio a questa musica di arrivare alla grande popolazione e qui la domanda come già ci siamo posti nel corso della chiacchierata con enrico santa caterina è se è nato prima l'uovo la gallina ebbene in questo caso io credo che sia nata prima la gallina e la gallina in questo caso è rappresentata dal potere un potere dispotico totalitario che sta devastando la vita delle ex democrazie occidentali da ormai più di 30 anni diciamo pure quasi 50 ma in modo acuto e conclamato da almeno 30 anni che per primo ha deciso di attaccare i gangli culturali per primo ha deciso di abbattere la possibilità di crescita culturale di crescita del pensiero singolo individuale e uno dei mezzi sicuramente importanti per ottenere questo risultato è stato a attaccare i giovani e attaccarli su quello che è la loro abitudine su quella che era la loro abitudine sugli ascolti della musica di questa cosa che accompagna accompagnerà sempre i giovani e i meno giovani nel corso dell'esistenza ecco che si è capito che uno dei punti cardine da attaccare era proprio questo cioè abituare le nuove generazioni e cercare di attaccare le vecchie sull'abitudine di ascolto non già e non più di grande musica quella musica che ti porta inevitabilmente a porti delle domande che ti porta in contatto con un universo enorme e se vogliamo anche imponderabile bene attaccare questa musica e proporre un rumore di fondo che sostituisse questo substrato culturale fondamentale con per l'appunto un rumore di fondo di accompagnamento perché la cosiddetta musica di oggi è un rumore di fondo di accompagnamento per quanto riguarda i suoni e per quanto riguarda i testi è abbruttimento i testi semplicemente si limitano a stimolare gli istinti più bassi e primordiali dei giovani ovviamente scavando in quel malessere che il potere stesso ha creato quindi quando io dico che oggi non c'è più musica mi riferisco a questo non mi riferisco al fatto in termini assoluti a tu curi perché la musica la grande musica c'è e ci sarà sempre e questo è il messaggio ottimistico con cui io voglio concludere questo video perché esattamente come tutto quello che a un certo punto finisce nelle catacombe magari un giorno presto o tardi riuscirà a tornare a rivedere la luce fuori dalle catacombe l'importante è ovviamente che questo rivolo che questo ruscello sotterraneo mantenga la sua piccola portata e chi è che può garantire questo le persone come me quelli che hanno deciso di dedicare la vita a questa missione di andare a scavare nei ruscelli nascosti per portare alla luce quanto di più interessante ovviamente a nostro parere si possa fare e ripeto non sono certamente solo io io sono uno di alcuni non tanti ma sono uno di alcuni ebbene questi alcuni devono essere aiutati da voi seguendo le nostre produzioni il nostro lavoro acquistando i nostri dischi perché alla fine noi si vive di questa cosa noi gli artisti i compositori viviamo di questa cosa quindi anche per oggi concludo qui vi rimando all'ascolto finale oggi più importante del solito evidentemente perché andrò a proporvi uno dei miei tanti autori interpreti esecutori quelli che stanno nel rivolo sotterraneo e che i grandi mezzi di comunicazione non portano alla luce per cui se vogliamo dare una coerenza a quanto ho detto oggi se fra di voi ci sono tanti e io ne sono convinto che ci sono tanti che hanno capito e che già la pensano come la penso io allora ascoltate questo brano non lasciate questo video fino alla fine e se non ce l'avete vi piace andate a comprarlo nelle forme e nei modi che preferite perché questa è l'azione concreta che si può fare per mantenere viva la musica il prog è morto ah sì ebbene viva il prog sì ebbene viva il prog è verona Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.